Si dovrà attendere sino ai primi di luglio per la firma del nuovo allenatore rosso-blu Carlo Perrone, che accordo fatto con la società potrà firmare solo dopo la scadenza del contratto di mister Nunzio Zavettieri. Un mister che ha sposato in pieno la linea del sudalizio aquilano e del direttore sportivo Alessandro Battisti, suo compagno di squadra ai tempi dell'Elo di Gianni. Ieri è stata un'occasione per conoscere Carlo Perrone, che conoscevo solo di fama, e insieme a Alessandro Battisti abbiamo scambiato alcune chiacchiere così propedeutico all'inizio del lavoro che questo gruppo dovrà affrontare da qui ai prossimi mesi. La società è impegnata ora per adempimenti economici e fiscali che non sono certo secondari al calcio giocato. La fase più calda è chiaramente quella di giugno, nella quale la calcio è chiamata non solo a rispettare gli adempimenti per quanto riguarda i criteri infrastrutturali, quindi lo stadio, in cui la segreteria già sta lavorando e mancano ancora pochi documenti che aspettiamo dal comune. La fase dei criteri sportivi, anche lì siamo a buon punto, e la fase dei criteri economico-finanziari, a cui fa capo la COVISOC, la Commissione di Vigilanza. Lì, chiaramente, come ogni anno, la società ha alcune lacune che sta cercando di colmare, ci sono dei parametri che sono molto stringenti, diciamo per il ripiano dell'indice PA, che è l'indice principale che viene preso in considerazione per l'iscrizione. A ristoro di quanto dovremmo comunque garantire c'è il saldo attivo della campagna trasferimenti, ovvero tutti i saldi attivi che l'Aquila Calcio ha motorato in questa stagione sportiva, di crediti con altre società. E qui abbiamo anche la bega dei crediti con il Parma Calcio, perché abbiamo numerosi crediti di una società che purtroppo è fallita e siamo in fase di attesa della pronuncia del giudice delegato. Quindi è un'estate che al di là di tutto ci sta mettendo tanto lavoro sulle spalle e cercheremo però di farlo perché non ci siamo mai spaventati di questo. Difficoltà ce ne sono, nessuno si nasconde. Anche formare la Rosa per il prossimo campionato non sarà facile per il direttore sportivo Battisti, avendo ben 16 calciatori sotto contratto. Si lavora comunque indipendentemente dalle vicende giudiziarie per assicurare all'Aquila un buon campionato comunque.